Passiamo al comprensorio, è arrivata la neve sui monti della Tolfa, stamattina intorno alle 7 i fiocchi hanno imbiancato strade e tetti dei due comuni collinari. Per fortuna però non si sono riscontrati problemi. A Tolfa stamattina il sindaco Luigi Landi ha emanato l'ordinanza di chiusura delle scuole, visto che nella prima mattinata alcune strade erano pericolose soprattutto per lo scuolabus. Poi l'allarme è rientrato. Già intorno alle 12 la neve si era sciolta, spiega il sindaco Landi, e quindi la situazione è stata perfettamente sotto controllo. Continuiamo a monitorare la situazione per non farci trovare impreparati. Anche a Dallumiere la neve non ha creato problemi. Abbiamo lavorato in summit con Prociv, Ufficio Scuola e Forze dell'Ordine, e tutto è andato bene e quando ci siamo resi conto che tutte le strade erano a posto e non erano pericolose, abbiamo evitato di fare l'ordinanza per la chiusura delle scuole. Nonostante l'assenza dell'ordinanza però, molte famiglie hanno preferito tenere i figli a casa e sono state moltissime le assenze registrate nelle varie classi. L'unico problema si è riscontrato in via della resistenza Monte delle Grazie a Dallumiere, dove per far passare l'ambulanza con un malato, la Procive e gli operatori comunali hanno provveduto a liberare la strada e tutto è tornato alla normalità. E sulla scorta dell'esperienza maturata lo scorso anno in occasione della forte perturbazione nevosa che ha interessato tutto il territorio della Tuscia, l'ASL di Viterbo ha predisposto un piano emergenza neve al fine di definire, pianificare, rendere omogenee e coordinare tutte le azioni da adottare nel caso in cui la rete ospedaliera sia interessata nelle prossime ore da eventi di intensità tale da mettere in crisi l'operatività con conseguente necessità di interventi a soccorso e a supporto degli operatori sanitari e dell'utenza. Una nuova autoambulanza per il Comitato Tarquigna-Monte Romano della Croce Rossa italiana. Grazie al contributo dell'amministrazione comunale, dell'Università Agraria e della Cittadinanza i volontari dispongono un nuovo mezzo moderno e studiato per offrire il massimo spazio possibile agli operatori e per ottimizzare la disposizione delle attrezzature adibite al soccorso e alla stabilizzazione del paziente, tra cui una sedia portantina e una barella autocaricante. A consegnare il veicolo è stato il vescovo della diocesi di Civitavecchia Tarquigna-Luigi Marrucci nel corso della cerimonia che si è svolta domenica, alla quale hanno partecipato il sindaco Mauro Mazzola e tra gli altri il vice sindaco Renato Bacciardi, l'assessore ai servizi sociali Enrico Leoni, l'assessore dell'Università Agraria Tilio Boni, il presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana Maria Teresa Gasbarri. Presenti anche numerose delegazioni dei vari comitati della Croce Rossa Italiana attivi nelle province di Viterbo e Roma e del mondo dell'associazionismo tarquinese. Durante l'iniziativa sono stati ricordati i volontari recentemente scomparsi, Giulio Valeri, Pier Gianni Fermi e Salvatore Carollo, che hanno contribuito a realizzare questo progetto. Il sindaco di Santa Marinella Roberto Bacheca risponde al candidato sindaco del centro-sinistra Massimiliano Fronti smontando le sue teorie. Innanzitutto afferma Bacheca, è facile sbandierare ai 4-20 il concetto di cambiamento ora divenuto cavallo di battaglia di fronti e dei suoi fedelissimi. Il cambiamento si dimostra con i fatti, non con le chiacchiere e la nostra amministrazione in questi cinque anni di governo ha cercato tra mille difficoltà di creare quei servizi e quelle infrastrutture che mancavano alla città per il suo conseguente sviluppo turistico ed occupazionale. Fronti non è certo un novellino, continua Bacheca, e non può certo oggi rifarsi una verginità politica promettendo ed impegnandosi in progetti e programmi che sono in contrasto con le idee del modus operandi dei suoi sostenitori, ad esempio sul settore urbanistico in primis e sugli accordi tra pubblico e privato. Durante la sua esperienza di governo nella giunta Tidei, continua il sindaco, non ricordiamo provvedimenti volti allo sviluppo infrastrutturale, turistico ed occupazionale della città, ma ricordiamo il project financing per la sede comunale. Al contrario noi abbiamo dimostrato con i fatti a chi ci tacciava di essere inesperti e di saper governare una città certamente meglio di quanto dimostrato dai tre consiglieri uscenti. Segnalazione stamane da parte dei dipendenti dello stabilimento balneare La Spiaggia di Ostia che informavano la Capitaneria di Porto della presenza di due esemplari di tartaruga marina spiaggiati e intrappolati in una rete. Sul posto è intervenuto subito il personale della Capitaneria di Porto di Roma e della delegazione di Spiaggia di Ostia, il quale ha constatato che uno dei due esemplari era purtroppo già privo di vita. Il secondo invece, sebbene in condizioni precarie era ancora vivo e privo di ferite evidenti. Il medico del servizio veterinario dell'Asl Roma di dopo aver valutato le condizioni della tartaruga ha ritenuto opportuno farla trasportare presso il centro di cure più vicino. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità a seguire, vediamo che cosa ci riserva la nostra consueta pagina dello sport.